Stiamo andando verso il Dermasterio Hondo, e dopo il sentiero dell'estero l'ho scoperto oggi che è festa, non ci sarà nulla e dopo forse ci andiamo diretti a Catamani non ci siamo, vedremo, più o meno giornata così se ne piace il posto ci andiamo, ci fermiamo, se no proseguiamo è anche un problema con i collettivos, perché del sentiero dell'estero a Catamarca c'era uno solo che parta alle 18.20 e ci mette 4 ore e quindi arriverei a Catamarca di notte però arriverei a Catamarca comunque sempre di notte, c'è solo questo tutto il giorno perlomeno questo non è detto, vedremo Grazie a tutti Grazie.